Il duca e la duchessa del Sussex sembrano condividere opinioni simili su una varietà di argomenti, come l'ambiente e la famiglia reale, e sicuramente si divertono ad abbinare gli abiti. Il principe Harry ha indossato un paio di pantaloni marroni e una camicia bianca per la sua recente apparizione in video con Meghan Markle. La duchessa del Sussex li ha completati con una camicetta senza maniche color cammello da 145 sterline e una gonna abbinata da 135 sterline, che ora è in vendita, di Bleusalt. La parte superiore ha la seguente descrizione. Il dolce vita senza maniche ha un dolce vita che rimane alto. Fasciato nella parte inferiore per un corpo più ampio. Si abbina perfettamente a qualsiasi parte inferiore. Nel frattempo, la descrizione della gonna recita. L'ampia fascia in vita doppia foderata della gonna a tubino, offre un supporto aggiuntivo con una vestibilità aderente e uno spacco posteriore, che ti consente di muoverti con totale facilità. Due pezzi classici in uno. Tradizionalmente progettati per essere indossati come una gonna a tubino o con una vestibilità a tubino, questa gonna può anche essere tirata su per essere indossata come un abito a tubo aderente. Uno spettacolo completo, non importa come scegli di indossarlo. Adoriamo abbinarlo con scarpe da ginnastica bianche e la nostra shorty crew, o con un sandalo con tacco e il cardigan Bleusalt. Al Mountbatten Festival of Music nel marzo 2020, Ferry e Megan, hanno condiviso uno dei loro momenti di abbinamento più memorabili, quando entrambi si sono distinti in rosso. Al Mountbatten Festival of Music nel marzo 2020, Ferry e Megan, hanno condiviso uno dei